Buongiorno, Corino manda a dire che un titolo sulla borsa italiana ha ancora da comprare nonostante abbia fatto parecchie strade, Bayer ha fino ad un prezzo di 58,221 con stop loss a 56,140 e Take Profit a 65,142, Secondo Take Profit a 62,935, il portafoglio sta andando bene, ha un rendimento del 6,1% su 54 giorni che significa un 41,3% su base anno, invece il portafoglio sul Forex non combina niente, su Euro-Dollaro ha perso l'1%, è andata sotto stop e Sterlina contro Franco Svizzero sta perdendo lo 0,4%, quindi non è né carne né pesce, Corinna prima o poi vi assicuro che saprete chi è, grazie, alla prossima